La prima guerra mondiale, che si compie con la mistizia dell'11 di novembre 1918, un finisce i paesi soldati che aggiunta la smobilizzazione di un vadim di 1919. Tanto occorre l'influenza spagnola che tomba ancora di più che il conflitto. La decisione di alzare i munimenti ai morti appigliano quando è da realizzare la popolazione il prezzo umano di questo macedo e che accogliano i gran feriti, i famosi golcassi. L'alzare di questi munimenti risponde a una doppia volontà. Un scordarsi mica può affermare che non è stato in daro i sacrifici di milioni di giovanotti cascati a un campo d'anore. In Corsica, ogni comune e qualche volta ogni paesone adalza il suo munimento. Quasi sempre in piazza Aieja, certi volte in piazza Amiria e di maniera scarsa scarsa in Camposanto, come se di avessere deciso le autorità locali di spiccare i morti civili da questi ghi, che devono affermare vivere, non sempre, a suo memoria. Quando è da sciata prima guerra mondiale, si trova a gorti gai in da miseria. Ciò che è confermata dal rapporto di Delaunay in 2008, resta dal presidente di Ogunsillo, Georges Clemenceau. La pauvretà di Lille è extrema. La pauvretà di Fiora o fucile a vendicare la Francia contro i prussiani vincitori in 2870. Un ciscurdemo che sta a Francia, in crisi, cerca rinforseboli ai sudani. Anche la gortiga è insegnata di dito da certi dopo la trafalata di un secondo impero. Clemenceau ha voluto per un franco simbolico. In questi tempi di stracciatura dei tessuti sociali, la guerra, con la morte di un milione e mezzo di francesi, firma in lettere di sangue un'unità nazionale nuova. I gorti morti in guerra sono ben numerosi, che diffusi nei gorti di origini o gorti di adottazione. Per una gran parte degli isolani, questi morti sono come un patto di sangue con la comunità francesa. I 495 monumenti ai morti alzati in Corsica, tra i due guerri, sono simbolici di questo patto sanguinoso, come da simbolica di noi a dimensione di un ricordo. A 6 gorti sono spariti in antagampi di battaglia, sfraccigati, interati dall'obusi e si porti in terra lontano. Per l'isola, dove è di potente tradizione di ladio davanti all'asalma di un morto, sta senza carnale è un vero castigo. Per i famigli in dollo, un fermo per ricordo che i ritrati scarti di un sparito, presi da una caserna in 2014, all'ora di ammobilizzazione. Questi casati stuccati non dai lastri di monumenti comunali. Tocca a smmobilizzazione, sono numerosi i gorti a lasciare l'isola dove è di scarso e duro travaglio, dove è di sopraneggia tutto il dolore tamanto. I monumenti ai morti sottandano gli ultimi ricordi di una juventù sparita. I monumenti ai morti di Gorsica portano in una dimensione di più. di poi avviene di un secondo impero, l'isola è vittima di vendette e di un banditismo. Tutti sti casati zucati da petra, rappresentando un dolo nazionale civico, leia di una comunità paesana, supponini a un dolo privato per via dati dilituosi. L'anore colittivo è riconosciuto dalla nazione e per la supra non dai vendetti locali. È così che di soppogli monumenti dove si trova una riferenza a Gorsica, meno di 3%. Parte più si assomigliano gli acquidi francesi. Iscrizioni, tutte in lingua francesa, dicini a riconoscenza di a patria o di a gummuna. In certi paesi, i morti di a guerra di 1870 sono adiunti a qui di 14 e 18, insegnando un nemico di stesso, il prussiano. Secondo Jean-Paul Pellegrinetti e Jean-Claude Ravis Giordani, i monumenti di Gorsica hanno una particolarità. Alla prima, la piazza data a questi monumenti è sfarenta. La piazza Aiege rappresenta il 60% dei luoghi d'alzera. A piazza Amiria, 11%. I composanti, meno di 2%. 25% sono stati alzati ai crucivii non da una piazza paesana o all'entrata di un paese. In continenti, 49% sono alzati in decomposanti. Forse, la stracciatura popolare campata da questi franci, mentre la spiccatura di Aiege e del Stato avrà avuta un po' di influenza. Inoltre, la piazza Aiege è capitata come un luogo neutro, comune a tutti, qualsiasi partito. La politica non ci entra. Inoltre, ci vediamo la quantità tamanta di questi monumenti in Gorsica e noi conosciamo il prezzo anche da un sacrificio finanziario che lo rappresentano per le popolazioni. Ci vogliamo contare 5.000 euro per una lastra, 10.000 euro per una stella e 15.000 euro per una statura. Contiamo in Gorsica 227 lastri, 187 stelle, 94 staturi. Non da questi staturi, la metà rappresenta un soldato, ma si può avere di noi una decina di volte il tema di Avediva accompagnato da tutti i dedo. Un numero di monumenti alzati in Gorsica marca il vinto di un tempo di crescita della popolazione e di un piccolo slancio industriale. A memoria di Apetra rimpiazza tanta vita in dei paesi e città. S'apre il tempo di Atrafalera, compianta raccattò con l'anni sessanta.